Bentornati! Qua, si sa, siamo, come al solito, nel posto chiamato Eden del Laghetto, dove adesso qua ci sono le oghe che stanno riposando, il gallo, i gali, in questo posto, oltre a giungersi, è anche arrivato un gallo da solo, forse ha trovato il posto meglio questo. Ho trovato questo galetto livornese qui nel mio campo e siccome era in giro il libero l'ho messo qua insieme alle ocche, se è di qualcuno che gli è scappato via che venga a prenderlo nell'Eden del Laghetto, io lo lascio libero qui senza nessun problema, se vuole scappare va via, perché se vuole può andare via, le ocche non gli fanno niente, e c'è l'acqua a volontà, c'è il cibo che mangia le ocche, il grano turco e c'è l'erba e se vada nella parte del cane, il cane non gli fa niente, il cane non va d'accordo solo con le ocche, forse ha trovato un posto meglio questo che altri posti, si sono aggiunti anche questi di qua, adesso ve li mostro, guardate qua, eccoli qua, probabilmente sono venuti per passare le ferie, si sono messe nell'isolotto qui, sono alcuni giorni che stanno qui in giro, bevono, fanno dei voli, vengono a trovare le amiche ocche, e sono diventati amici del posto, ovviamente un posto piacevole, dove c'è l'acqua non manca, l'erba non manca, le piante non mancano, ancora vogliono di più, dopo vanno, hanno il pane, hanno i rami per mettersi, hanno la compagnia qua delle ocche, delle amiche, si si ho capito, hanno anche la musichetta, che non manca mai, un filo di fusione, si viene diffusa, hanno la casetta, se vogliono, ci sono gli olivi, le more, adesso non vedi la notizia, si viene ridotto, 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti